Stamattina diamo corso ai lavori al mercato di Viero Bertelli, sono lavori per la verità attesi da parecchio tempo che rendono più fruibile la struttura e più adatta alle operazioni mercatali, sono attesi da tanto tempo, purtroppo c'è una fase di disagio, i lavori dureranno una quindicina di giorni ma saranno sicuramente opportuni sia per coloro i quali operano all'interno del mercato sia per i clienti degli stessi, purtroppo in una quindicina di giorni ci sarà questo disagio e ci sarà la necessità di operare alcuni spostamenti soprattutto nel settore alimentare per rendere possibili questi lavori, speriamo che questo disagio possa essere ben gestito in questa fase e compreso soprattutto dai cittadini interessati al mercato e dagli operatori stessi.